ciao ragazzi e benvenuti in questa nuova puntata di contatori del tempo l'episodio di oggi è dedicato al villervetta jumbo star il villervetta jumbo star non è la prima volta che porto sul canale villervetta recentemente ho fatto la video recensione del dyna wind che poi vedrete che c'entra qualcosa anche con questa puntata qua e lì ho dipanato la storia della casa grandi linee quindi se siete interessati vi invito a guardare quel video l'orologio che è protagonista del video di oggi invece è un cronografo che è niente meno che la riedizione del cronografo del 1968 il famoso jumbo star venne declinato recentemente nel 2021 nella versione da 43 mm un pochino grandino magari aveva il vetro minerale e il datario adesso c'è questa nuova versione che è 40 mm il vetro zaffero e senza data direi che per i miei gusti è il top i miei gusti che però sono rimasti un attimino in dubbio fino all'ultimo perché potevo scegliere tra il quadrante nero e il quadrante blu il nero come sapete uno dei colori che mi piace di più sobrio semplice essenziale ma il blu aveva quel qualcosa quel quidem più di brio che mi ha fatto optare per prendere quello un insieme di colori che poi vedrete nella recensione è particolare molto particolare l'orologio chiaramente mi è stato messo a disposizione dell'amico giacomo che è il titolare della gioielleria pasquali domenici di viareggio che è partner ufficiale del canale ed è anche concessionario ufficiale del marchio villa ervetta come gli altri marchi poi voi telefonate vi fanno un trattamento di favore che come quello non ce n'è ora prima di guardare l'orologino no che il jumbo star che tanto ci piace o perlomeno a me piace vi mostro l'orologio del giorno che è in tema e infatti si ricollega all'inizio perché è il mio bellissimo villa ervetta dyna wind 39 mm di diametro cassa calibro sv 200 orologio che io indosso con questo bel cinturino nato in stile james bond che è da 20 il cinturino da 20 mentre l'ansia da 22 ho fatto un gioco per renderlo un pochino più stretto c'è anche da dire che poi il vetro minerale questo ha capito uno dei punti deboli di questo orologio il vetro minerale però a me mi piace talmente tanto è leggero e è indossabile a me piace quindi ce l'ho ce l'ho ce l'ho adesso giriamo la camera guardiamo il jumbo star e poi ci troviamo qui come al solito per le considerazioni finali diamo voce ai risultati ottenuti dalle misurazioni con relative considerazioni sulle proporzioni diametro cassa 40 mm spessore 16.2 ingombro trasversale al polso 49.2 e interasse ansa da 20 millimetri cosa se vince da tutto ciò che è un orologio spesso e già qui metà di voi chiuderanno il video per incompatibilità con il jumbo star e infatti lo è non ci si può nascondere dietro un dito ho provato a studiarlo per capire dove si nascondono quei decimi in più il lato garù non è così spesso e le anse sono piuttosto inclinate per andare a comprendere anche il profilo fondello gli elementi incriminati sono quindi il vetro e la lunetta soprattutto quest'ultimo appare leggermente sopra la media e il motivo è sicuramente la ghiera interna girevole che richiede maggiore spazio rispetto ad un orologio senza ghiera lo si vede anche dall'alto il reo inclinato di 45 gradi arriva a filo con il vetro svelato l'arcano andiamo a cercare di capire come sta al polso il lag to lag e il diametro contenuto gli permettono di apparire decisamente equilibrato e ben indossabile e l'ingombro trasversale di 49 millimetri viene mitigato dal fatto che le anse sono fortemente inclinate verso il basso e tendono ad avvolgere repentinamente il polso chiaro che lo spessore si vede occorre farsene una ragione e considerarlo un tool watch come effettivamente può essere considerato un cronografo 100 metri con ghiera interna stilisticamente parlando ci troviamo di fronte ad una cassa caratterizzata dalla consistente inclinazione del profilo laterale il sistema lunetta ansa scende molto rapidamente verso il bracciale conferendo alla vista laterale un design ad elmo ed in questo mi ricorda un po' con lo stile di certi orologi giapponesi molto particolari le anse sfaccettate laddove il bisello di separazione in quanto largo sembra quasi diventare una superficie a sé stante anche se la finitura lucida del lato carrur è piuttosto simile e non riesce ad evidenziare lo stacco netto che di solito esiste tra i due elementi cosa alquanto diversa per la superficie superiore che appare ben spazzolata e visivamente differente vista dall'alto invece la cassa va a mettere in mostra tutta una serie di elementi di controllo che lo identificano come strumento tecnico questi elementi sono naturalmente i pulsanti e le due corone se la corona di carica ad ore 3 e a vite quella ad ore 10 deputata alla rotazione bug è libera da impedimenti in questo caso saranno le guarnizioni interne a svolgere il compito di mantenere l'impermeabilità dichiarata altro discorso per i pulsanti crono a livello stilistico rappresentano la migliore configurazione a pompa possibile ma la curiosità è che non fuoriescono direttamente dalla cassa ma da un cilendretto avvitato alla stessa ne consegue che anche qui il compito di mantenere sigillata la cassa viene demandato alle guarnizioni presenti in ogni caso è sempre meglio non utilizzare i pulsanti sott'acqua le 10 atmosfere sono più che sufficienti ma nel momento in cui si va ad agire sui pulsanti il rischio di infiltrazione aumenta ed in tutta onestà il gioco non vale la candela perché utilizzare la funzione crono sott'acqua riassumendo una cassa convenzionale molto inclinata di profilo che vede il suo punto forte nello stile della pulsanteria ma l'aspetto virile finora riscontrato è presente anche nel lato b incrociamo lo sguardo con il fondello e notiamo che è cieco dall'aspetto solido e ben decorato avvitato la cassa nasconde alla vista il cuore dell'orologio che per una volta non è il solito sellita si tratta infatti dell'anderon 72 calibro automatico swiss made realizzato dall'azienda che ha rilevato lo storico marchio e che ormai da qualche tempo si sta proponendo come la più dinamica alternativa e soliti movimenti di fornitura il meccanismo va a sovrapporsi al conosciuto va e giù 77 50 sia come architettura sia in termini di misure esterne in questo modo può essere preso in considerazione da tutte quelle case che utilizzano i calibri crono standard tra l'altro nell'immagine senza rotore possiamo anche notare quanto sia curato a livello di finitura ma ruotiamo l'orologio e diamo lo sguardo al volto partiamo dalla scelta ho preferito la configurazione quadrante blu semplicemente perché mi piace l'accostamento cromatico e penso di aver fatto una buona scelta cosa che apprezzo di questo dial il contrasto tra il fondo blu opaco e gli accenti color crema tenue unito alla spolverata di rosso restituito dagli indici un insieme di ingredienti ben dosati che si amalgamano finemente offrendoci un aspetto brioso ma equilibrato ma iniziamo da un tema ben preciso ossia la notevole profondità del quadrante che poi una delle concause dello spessore generale visto in precedenza il livello più basso ossia la base del quadrante vera e propria coincide con l'anello chiaro sul quale sono presenti markers rossi si nota chiaramente il dislivello rispetto al disco blu centrale che viene sovrapposto in un secondo momento i due compacts appaiono invece scavati nel disco senza però raggiungere il livello inferiore precedentemente visto se non bastasse vi sono poi gli indici applicati in rilievo che appaiono considerevolmente elevati in altezza completando così l'effetto 3d generale apprezzo poi la finitura dei dettagli come la lavorazione a vinile dei sottocontatori che ne mette in risalto l'avvallamento oppure il fatto che ogni accento presente sul quadrante viene decorato in ugual modo una cornice metallica lucida è presente sia sugli indici che sulle sfere ed anche sulle piccole sfere nei sottocontatori quest'ultimo è un dettaglio che di primo acchito mi ha lasciato perplesso le sfere dei compacts mi sono apparse un po troppo larghe avrei pensato a delle lancete a bastone nere che migliorano la leggibilità ho poi compreso che la larghezza è funzionale alla leggibilità al buio in quanto necessario per depositarvi il superluminova infatti si tratta uno dei pochi cronografi che in assenza di luce mette in risalto anche la lettura dei subcontatori ma anche la sfera crono centrale direi una feature rimarchevole insomma nella sua globalità presenta un quadrante con un'eccellente leggibilità notturna e una buona leggibilità diurna nei crono è sempre difficile raggiungere l'optimum a causa dell'affolamento del quadrante e dei giochi cromatici dovuti ai sottocontatori non vi ho ancora mostrato il funzionamento della bug interna basta semplicemente ruotare la corona ad ore 10 e piazzare il triangolo sulla sfera minuti da quel momento è possibile monitorare un dato intervallo di tempo oppure visto che non è presente il contatore ore crono lo si pone sulla sfera ore quando si attiverà la funzione crono stessa non rimane che parlare del bracciale un design a chicchi di riso rivisitato che vede i grani lucidi posti sia al centro ma distanziati tra loro grazie ad alcuni segmenti satinati infra posizione architettura che gli permette una flessibilità sopra la norma lo si nota all'attaccatura delle anse laddove in grado di cadere perpendicolarmente ancora prima del termine delle anse stesse inoltre grazie ai numerosi segmenti che compongono ogni maglia ha la capacità di avvolgere ergonomicamente il polso inutile dire che la qualità dei materiali è buona così come lo è la cerniera interna ben spessa e solida una nota a riguardo delle maglie sono tenute in sede dai classici pin a pressione monodirezionali e non sono presenti mezze lunghezze ma essendo piuttosto corte si ha un discreto margine di lavoro nel regolare la misura attenzione che i forellini per la micro regolazione sono solamente due un po pochi per trovare la posizione giusta al volo possiamo tornare presa diretta per le considerazioni finali cosa dire ragazzi orologio che è bellissimo proprio il punto forte di questo orologio l'aspetto estetico poi può piacere o no ma se non vi piace mettetevi una mano sulla coscienza perché probabilmente avete dei problemi cioè bello esteticamente dai non si può dire niente proprio bello al polso sta bene e tutto quali sono i suoi punti deboli va bene partiamo da quello meno evidente cioè la regolazione sulla claspa soli due forellini e non è sufficiente per fare una regolazione anche solamente d'estate da stretto a largo no quando cambia la temperatura e il polso si ingrossa secondo me si possono trovare va beh va lasciato un pochino lasco in modo da avere tutte le varie possibilità punto debole un pochino più evidente più forte e lo spessore c'è lo spessore in questo orologio c'è lo spessore però è talmente bello che secondo me va considerato come fosse appunto un tool watch un orologio sportivo un cronografo sportivo 100 metri con la ghiera interna e come tale va considerato va accettato a volte bisogna accettare punti deboli un compromesso per avere un orologio che ci piace tanto no come io per esempio questo qua il vetro minerale è un compromesso che ho accettato perché mi piace l'orologio la sua forma in stile vintage no e lì bisogna accettare lo spessore se ti piace lo spessore va in secondo piano anche perché non è che viaggi tutto il giorno così chiaramente faticherei di più a metter sotto una camicia di quelle strette eleganti ma non è l'orologio da mettere sotto una camicia stretta elegante diciamo così poi la qualità costruttiva c'è avete visto benissimo bracciale di una comodità unica proprio quelle maglie a chicchi di riso che ti si adattano al polso in maniera perfetta poi sono anche belle da vedersi satinate un po' lucido la qualità c'è l'unico punto debole e lo spessore ragazzi io ho fatto tutte le fotografie possibili le immagini possibili le riprese l'ho descritto per mettervi sul piatto no tutti i pro e sul contro voi siete in grado da soli di vederlo di capire se vi piace se non vi piace e se può far parte della vostra collezione no se è degno di entrare nella vostra collezione quello è una cosa personale che solamente voi potete decidere boh mi sembra di aver detto tutto spero vi sia piaciuto l'orologio vi sia piaciuto il presentatore e vi sia piaciuto il video se così non fosse ce ne faremo una ragione ma con dispiacere vi ricordo gli appuntamenti fisiche come sempre sono quando voglio io il più spesso possibile qui su youtube love ciao 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 ciao